Bonjour ragazzi, oggi sembro un ananas o un ciuffo che mi sparaflescio a destra comunque bonjour ragazzi e ragazze, oggi sono un po' triste perché è l'ultima mattina qua ad Alkbar stiamo per tornare a casa, il nostro aereo parte tra tre ore, quindi tra un po' partiremo per l'aeroporto sperando che non ci siano problemi con la partenza perché il tempo è veramente pessimo oggi ma va, veramente questa settimana siamo stati sfigatissimi per quanto riguarda il tempo perché sta continuando a piovere e a diluviare per giunta qualcuno di nome Tomas Patato ha rossato per tutta la notte e quindi non sono riuscita a dormire tanto bene ma fa niente perché tra un po' si torna a casa, rivedrò Gatodem e Gatastellina sono molto contenta anche se appunto mi mancherà Demelza, mi mancherà Vic ma torneremo presto e poi anche loro vengono a trovarci in primavera quindi sono molto contenta e niente abbiamo già sfruttato tutto quanto ho rifatto il letto anche se cambieranno le lenzuola ma mi piaceva lasciare in ordine devo prendere ancora il mio cappotto e questo è quanto Siamo pronti Pupetta? Certo Pronti a partire? Hai paura di volare? Neanche un po' Io Comunque siamo fermi ancora nell'aeroporto di Amsterdam e oggi non come al solito al solito vogliamo a Venezia, oggi invece vogliamo verso Ljubljana, la capitale slovena perché in realtà anche se è in un altro paese è parecchio più vicina a noi rispetto a Venezia e adesso c'è questa nuova tratta di Transavia che appunto penso utilizzeremo spesso ma mi sa che l'aereo si sta muovendo quindi tra un po' si parte Tomar si sta preparando per il sonnellino per il sonnellino da aereo no? Ti addormenti sempre in aereo Oggi no Oggi no? Ok, ok Siamo pronti Hanno già parlato di un'eventuale turbolenza io non posso continuare così ho tanta paura stiamo decollando adesso ogni volta che volo penso che non posso continuare così davvero cioè io devo venire in barca devo muovermi in barca e in treno quel Titanic sì, quel Titanic per la fine facciamo mamma mia, adesso comincerà ad agitarsi guarda quante nuvole io perdo dieci anni di vita ad ogni volo dieci anni di vita perdo ad ogni volo con l'ansia adesso non si vede più niente la giù si vede la neve Dovinate un po' Siamo sulle Alpi La cosa interessante è che loro ci hanno detto di parcheggiare davanti all'aeroporto qua Con il cartellino degli invalidi Due persone che lavoravano qui ce l'hanno detto E adesso ci vogliono dare una multa di 150 euro perché abbiamo parcheggiato qua Però ce l'hanno detto loro di parcheggiare qua Abbiamo chiesto due persone Quindi mi sembra assurdo Non ci lasciano uscire Ok letteralmente mi stanno facendo aspettare Mi hanno portato la cassa Dicono che dobbiamo pagare 150 euro in ogni caso Nonostante due dei loro addetti che lavorano in un aeroporto Cioè abbiamo detto di parcheggiare lì Noi abbiamo fatto così Ci sembrava strano ma visto che ce l'hanno detto non uno ma in due Noi abbiamo parcheggiato lì la macchina Adesso secondo me perché hanno visto la targa italiana E poi sono rimasti malissimo perché in realtà allo Slovene non lo sappiamo parlare Adesso ci stanno facendo aspettare Tomas è in macchina E' venuta anche la polizia non so perché poi E io adesso sono qua che sto aspettando davanti la cassa letteralmente Se devo pagare questi 150 euro oppure no Perché mi sono lamentata non poco Perché se fosse stata una cosa che avessi fatto io di testa mia E avessi sbagliato parcheggiare lì Posso capire assolutamente avrei pagato senza problemi perché sbaglio mio Ma siccome due persone che lavorano in un aeroporto mi hanno detto di parcheggiare là Allora non ci sto Nel senso gli ho detto ok trovatemi la persona che aveva il turno di lavoro a quell'ora Quando noi siamo arrivati trovatelo perché cioè questi 150 euro se li paghi lui se non sa lavorare E quindi adesso mi hanno detto di aspettare ancora 7 minuti non so perché Vediamo Questa è una classica cosa che ci succede in Slovenia Quando tu hai la targa italiana eccetera O magari i documenti italiani Ma sai parlare lo sloveno perché noi siamo madrelingua E' assurdo perché ti rendi conto che ti trattano diversamente Cioè ti trattano come se tu fossi straniero Quindi ci sono rimasti perché sono venuti a parlarmi in inglese Sì voi poi faccio no veramente siamo sloveni Nel senso che e quindi non si aspettavano che io reagissi in questo modo Ma il fatto è che hanno sbagliato loro perché non una ma due persone che lavoravano in un aeroporto Mi hanno detto parcheggia là E gli faccio guarda che questo è drop on drop off Questa è zona veloce non posso lasciare quella macchina Mi hanno detto sì 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 parcheggia qua metti solo il tagliandino degli invalidi E sappi che sei a posto Ok Ok E' un'esplice che sono i nostri amici Mi hanno detto che sono i nostri amici Mi hanno detto che sia un poclico Non è davvero 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 un poclico Ok ci hanno lasciato andare Abbiamo perso non lo so quanto Mezz'ora 40 minuti Non lo so Comunque È davvero brutta esperienza E mi dispiace Perché Essendo comunque slovena Non mi sento trattata bene Non so come dire Sbaglio l'oro Mi sarei aspettata Guarda abbiamo sbagliato noi Cioè scusaci Lasciamo stare Mi raccomando però Prossima volta Cioè mi sarei aspettata una roba del genere Calcolando che Tomas è 100% invalido E comunque Ma neanche c'entra questo poi Perché è stato uno sbaglio l'oro E io gli ho anche detto Ma sei sicuro che posso parcheggiare qui Nel drop on drop off Cioè nella zona veloce E il tipo mi fa sì E quindi noi abbiamo parcheggiato là E poi comunque Essendo che mi sembrava strano Poter lasciare la macchina lì E poi ho trovato un altro ragazzo Che ci lavorava lì E mi ha detto pure lui Sì sì lasciala qua Anzi mi ricordo che ho parcheggiato Un po' indietro Mi fa no 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 Spostala un pochino più avanti E io l'ho spostata un pochino più avanti Faccio stiamo a posto Mi fa sì sì E poi tu torni una settimana dopo E poi ti trovi la polizia E gli addetti ai tre di loro Che in inglese ti dicono Tu adesso devi pagare 3200 euro Ma stai scherzando Poi certo hanno visto che sono slovena Che parlo sloveno Allora si sono un po' inteneriti E poi da 150 euro mi fanno No possiamo fare un forfait Che poi da dove questi soldi Di 150 euro Secondo me hanno visto tipo A targa italiana Hanno detto vedi che spediamo soldi a questi qua E poi siccome siamo sloveni Mi fanno no boh Allora facciamo 95 Facciamo 95 euro Però poi potete mandare un reclamo Altrimenti sono 3200 mi fa Quindi ho pagato 95 euro Lamentandomi E poi gliel'ho detto anche alla tipa della casa Guardi che i vostri addetti all'aeroporto A cui date i giacchetti riflettenti Che stanno in giro per il parcheggio Loro non sanno che cosa fanno Perché io gliel'ho chiesto chiaramente Dove il parcheggio parli è validi Lui mi ha diretto là E lei mi fa sì ma quelli sono studenti Non sanno cosa fanno Ma scusa ma siete voi che li assumete Cioè è colpa mia che voi assumete studenti Che non sanno niente Cioè allibita Io sono allibita Comunque se prima vi dicevo Ah c'è una nuova tratta Ljubljana Amsterdam Conviene molto di più Rispetto ad andare fino a Venezia Adesso ve lo dico Che se siete di Trieste Evitate Perché secondo me E' meglio farvi la strada verso Venezia Perché qui Cioè io mi sono sentita trattata Non male Peggio Veramente malissimo Incompetenti E poi pure Maleducati Quindi assurdo Comunque Comunque Lasciamo stare in cazzatura Passato E adesso Tomas non spicci che parola Perché si è arrabbiato molto lì Poi mi ha detto Meglio che parli tu Meglio che non dica niente io E mi è sembrato anche molto intelligente Come discorso E niente Adesso siamo in autostrada E stiamo tornando verso Trieste Finalmente E io devo caricare un video E ho perso mezz'ora Quindi speravo di essere a casa Già alle 5.30 Invece penso che arriveremo a casa Alle 6 o qualcosa Ehm Però riuscirò comunque a caricare il video Oggi mi sto E' importante Ed eccoci qua Tornati a casa Finalmente Caru never Mi sei mancato Caru never Oh Caru Caru never Ma che è mio gattino così bianco Si è mio gattino tutto bianco Sii dove mi porti Dove mi porti Qua mi porti Sii Si è mio gattino tutto bianco Tutto bianco lui Tutto bianco lui È un po' corangione Guarda qua Un po' corangione Guarda qua un po' corangione Si è tutto bianco Andai nel mio studio Entra nel mio studio Vai andiamo fuori caru never Allora E c'è anche gattashtellina 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 Scogliatolina Basta si è mostrata E se ne va Gattashtellina 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 E fermati Sempre sul tappeto si posiziona lei Sempre sul tappeto Ma ciao Ma gattashtellins Ma fatti vedere Ma gattashtellins Ciao gattoli Ok prima cosa che devo fare adesso E caricare il video Vlog che è già pronto L'ho editato in aereo Quindi è già pronto Devo semplicemente Controllare le ultime cose E caricarlo Dopodichè Sistemiamo tutto e quanto E svuotiamo tutte le valigie E poi si ordina una pizza Che con Tomasha abbiamo già deciso Che oggi ci mangiamo la pizza Voila ho già svuotato tutto quanto Abbiamo messo tutto a posto C'è gatto Denver Ciao 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 E nel frattempo Sono arrivate anche le nostre pizze Sì Pupetto Abbiamo ancora tutti i regali da aprire Sotto l'albero tra l'altro E voglio proprio vedere com'è L'hai aperta questa pizza Hai visto com'è Eh? No guardate solo qua L'ho aperta Wow Non è proprio napoletana napoletana come piace a me Però ce la faremo bastare Perché purtroppo non possiamo andare a Napoli ogni volta che ci viene voglia di pizza Comunque guardala Vai Non è male Poco pomodoro però Mannaggia Però ho una fame Eccola qua Buon appetito Buon appetito Buon appetito pupetto Grazie mille C'è qualcuno qua Che non mi fa andare a nanna Che non mi fa andare a nanna Questo piccolo gattino Mi si è mancato tanto 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 Ma si Il mio faccino giusto bianco Giusto peper Questo piccolo Questo piccolo Il mio faccino bellissimo Il mio faccino bellissimo Il mio faccino bellissimo Il mio faccino bellissimo ... ... ... ... Sì La piccola che tiene tutto pianto Giammananda che tu denla sai Giammananda che tu denla Guarda che pancio che c'hai Guarda che pancio che c'hai Sì, sì La piccola che tiene tutto pianto Eccoci nella nostra stanza Pronti ad andare a nanna Tommaso ci ha posizionato nel lettone E io invece adesso Mi metto l'apparecchio E poi mi metto anch'io nel lettone Però in realtà al montaggio di questo video Così andrà online domani E niente Vi diamo la buonanotte Un bacio grandissimo E se questo video andrà online Domani è venerdì, giusto? Quindi questo video Sì, domani è venerdì Quindi questo video va online venerdì E noi ci vediamo lunedì Con un nuovo video Calcolate che noi domenica Saremo in viaggio verso le Maldive Quindi io spero di riuscire Lunedì puntuale a calcolare un video A caricare un video Non ve lo garantisco Perché ci stavo pensando in questo momento E lunedì effettivamente Potrebbe essere un po' difficile Perché noi abbiamo un giorno di viaggio Verso le Maldive Quindi è probabile che Anzi, sì Molto probabile che lunedì Non riuscirò a caricare un video Ma io ci provo Non ne dette l'ultima parola Può essere che io ci riesca Anche dall'aero In qualche modo faremo Ma se non arriva il video Non vi preoccupate Significa che stiamo viaggiando Ok? Un bacio Grandissimo E a presto Ciao Ciao